Salve a tutti, abbiamo imparato ad apprezzarli in tante occasioni, direi purtroppo. Parlo degli addetti alla sicurezza, dei commissari di percorso. Qui per esempio vediamo i leoni della CEA che letteralmente salvano dalle fiamme Gerard Berger al Gran Premio di San Marino a Imola nel 1989. O vediamo ancora questi addetti che intervengono rapidamente sulla Ensign di Jake X in fiamme in mezzo alla pista al Glen nel 1976. O questo Marshall in Canada nel 2011 che ci fece spaventare non poco. Molti, al pari dei piloti, hanno sacrificato la loro vita. Già nel 1963 un addetto alla sicurezza rimase ucciso per l'uscita di strada della Ferrari di Willi Meres al Nürburgring. Facendo un salto nel 1975 stessa triste sorte toccò in Austria al commissario di percorso Manfred Schaller investito dalla Penz di Mark Donoghue in rovinosa uscita di pista durante le prove libere della domenica. Drammatico il 1977, prima con la morte del 19enne Frederick Jansen Van Wurer, travolto da Tom Price mentre cercava di intervenire sull'altra shadow di Renzo Zorzi in Sudafrica, poi con la morte del giovane commissario Kengo Yasa, 21 anni, in Giappone al Fuji, colpito dalla Ferrari di Gilles Villeneuve dopo la collisione del canadese con la Tyrell di Peterson. La moglie di Gilles, Joanna, dirà che lui per quanto scosso non si sentì mai responsabile di quanto successo perché quelle persone si trovavano in zona vietata. Veramente sfortunato fu nel 2000 a Monza Paolo Gislimberti, 33 anni, trentino, colpito in pieno da uno pneumatico staccatosi nel pauroso groviglio alla variante della Roggia. La moglie era incinta all'ottavo mese. Un anno dopo, nel 2001, a rimetterci la vita fu Graham Breveridge, 38 anni, che al quinto giro del Gran Premio d'Australia venne colpito la testa da un pneumatico della Bardi di Jacques Villeneuve che aveva tamponato la Williams di Ralph Schumacher. Assurda infine la dinamica che costò la vita ad un commissario di percorso al Gran Premio del Canada 2013 durante le operazioni di recupero della Sauber del ritirato Guterres. Chienatosi per raccogliere la radio venne colpito la testa dalla gru. Cronache tristi di un compito necessario. Grazie per l'attenzione, lasciami un like se il video è stato di tuo interesse e se vuoi iscriviti gratuitamente al canale cliccando anche la campanella per non perderti tutti i prossimi video. Ciao. Grazie a tutti.